bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e siamo oggi sul nuovo episodio di minecraft signori allora cosa facciamo oggi prima di partire il video vi ringrazio per i commenti e per il supporto che date alla serie vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo come obiettivo quello di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno ci riusciremo non lo so però intanto l'abbiamo abbiamo come obiettivo poi se ci riusciamo ci riusciamo se non ci riusciamo continueremo continueremo a provarci signori detto questo cosa andiamo a fare nel video di oggi nel video di oggi dopo l'ambra d'anno è successo ieri qui intanto il golem non sponano noi ne abbiamo ammazzati due che c'erano liberi nel casa casa ora non esponono più dopo tutto l'ambra d'ante del video di ieri per cercare di tornare a casa oggi un video un pochino più tranquillo signori oggi andremo a fare un andremo a sistemare il magazzino ebbene ebbene sì ebbene sì signori andremo a sistemare ho detto una grandissima cretinata non il magazzino ma la miniera inizia tutto con m signori mi sono un attimino ringretinito allora allora come la sistemeremo la nostra miniera bella bellina ora secondo me annoia terribilmente fare saliscenti dalla scala e dovremo fare un sacco di scale e perdere un sacchissimo di tempo andremo a fare una discesa rapida in quel punto di là signori se le mie coordinate non sono sbagliate dovrebbe essere no infatti sono sbagliate dovrebbe essere lì lì l'entrata le coordinate precise di dove diciamo c'è la nostra miniera là sotto andiamo ve la faccio a vedere velocemente di dove abbiamo il nostro arrivo della miniera almeno al livello meno 59 sì è in questo punto di qua signori nelle coordinate 18 meno 18 le ho controllate due volte perché prima avevo sbagliato mi ero segnato meno 18 avevo segnato 18 e 18 ed ero finito da quello della e non trovo la mia miniera però niente non è successo niente di male non è successo niente di male come la faremo faremo sia la discesa rapida che la risalita rapida visto che abbiamo trovato la le sabbie delle anime questo fungo mi sa che però verrà eliminato e come la faremo signori faremo invece di dover scendere giù e entrare qui e scendere quindi ha scoppiato un creeper e si vede che manca mezzo albero quindi questo albero va anche questo eliminato mi dispiace era molto carino e coccoloso ma lo dobbiamo eliminare perché non ci non li sopporti alberi volanti non li sopporto signori ma lo faremo dopo lo farò poi off camera lo farò poi off camera faremo un bellissimo tunnel di vetro che dalla casa nostra che in quale direzione doveva fare tutto un percorso lungo 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 che arriva qui ci farà scendere direttamente in fondo alla nostra bellissima miniera allora per prima cosa per prima cosa direi questo è il nostro blocco di riferimento quindi direi scaviamolo due perfetto dovresti eleviamo questa terra a giro magari non quella perché quella aspettate questa la rimettiamo così perfetta e a giro del nostro buco ci andiamo a mettere il vetro colorato signori ho abbassato leggermente l'audio per non dar fastidio ai vicini perché non è più tanto presto signori allora a questo punto io direi di iniziare a salire fino arrivare al livello 79 qui dovremmo fare una pulizia totale di tutto questo baratan più o meno sì allora il nostro livello deve essere 79 perfetto siamo a livello di casa nostra a questo punto io dovrei avere della betulla sperando che mi basti 21 blocchi mi sa che non mi bastano mai nella vita ma ci proveremo vediamo se riusciamo a fare un ponticiatolo che ci unisce a casa e poi un giorno lo abbelliremo signori in un altro video cercheremo di fare l'abbellimento della della situazione l'abbellimento della situazione riusciamo ad arrivare vicino a casa con altri dieci blocchi spero di sì non dovremmo essere tanto lontani porca miseria dai dimmi che ci siamo dimmi che ci siamo quanti no abbiamo sbagliato di un blocco abbiamo sbagliato di un blocco va bene faremo un piccolo gradino di qua che scende e così quanto meno ci sarà un po di movimento sarà carina come come cosa sì faremo un gradino di discesa faremo un gradino di discesa sì andiamo a fare subito il gradino di discesa dovrei averci dei gradini sì di un altro colore però va bene sono quattro va bene non ci dispiacciono non ci dispiacciono è anche vero che qua avevamo detto che dovevamo allungare la nostra farm di alberi e vabbè ci inventeremo qualche altra cosa ci inventeremo decisamente qualche altra cosa ora torniamo verso qui e facciamo un attimino di pulizia signori perché qui dobbiamo decisamente sistemare tutto allora questo albero di qua deve essere eliminato quindi alberello mio è stato bello conoscerti ma devi sparire dalla mia vista anche quel fungo dovrebbe deve sparire decisamente sì però se lui mi dovesse droppare altri funghi noi potremmo tranquillamente ripiantarli allora facciamo fuori questo fungo via via rapido questo lo voglio ripiantare per esempio perché comunque fa colore il fungo fa colore quindi capiamo come come si possono fare questi funghi enormi che non li ho mai fatti ok perfetto abbiamo un attimino sistemato la zona abbiamo un attimino aperto tutta quanta la zona ora dovremmo poter tranquillamente qui c'è la nostra vecchia miniera che lasceremo lì senza dar troppo fastidio ora signori se noi c'è le cartelli no vabbè non è un problema non è un problema iniziamo a scavare come se non c'è più domani ora scavando qui sotto noi dovremmo riuscire a trovare senza grossi problemi la nostra miniera certo dobbiamo arrivare al livello meno 59 non sarà proprio proprio la passeggiata perché ci sarà l'acqua che romperà le scatole e quindi questo è già è una prima rottura di scatole infinita ok questo l'abbiamo sistemato vediamo se ci sono altri punti in cui c'è l'acqua eventualmente dobbiamo chiudere perché la discesa deve essere dritta per dritta l'acqua la metteremo alla fine così il nostro pupino arriverà senza doversi rompere le ginocchia decisamente bisogna rompersi le ginocchia metteremo il cartello qui c'è del ferro e anche dell'oro ottimo a noi interesserebbero dei diamanti sinceramente trovassi dei diamanti mentre sto scendendo così a caso sarebbe l'apoteosi sarebbe l'apoteosi ok è iniziata la roccia quella un po più scura il nostro piccone mi sa che ci abbandonerà molto presto abbandonerà 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 molto presto comunque ci lascerà quindi speriamo di riuscire a raggiungere velocemente il livello meno 59 prima che si spacchi tutto il piccone sarebbe cosa buona e giusta la grave la potevo rompere con la za ok dove cazzo la siamo non lo so questo è bellissimo questo è bellissimo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua l'abbiamo preso l'osalot signori abbiamo un osalot perfetto possiamo farci il nostro bellissimo acquario possiamo farci il nostro bellissimo acquario ora il secchio d'acqua mi serviva per altro però 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 anzi scusate mio quasi quasi facciamo una cosa visto che qua l'acqua ci sta l'osalotto lo mettiamo qui di lato perfetto fai così facciamo un altro piccone perché quello ci sta abbandonando signori ci sta per dire addio è stato un piacere tanti che li saluti veditela da solo facciamo un altro secchiello no così perfetto recuperiamo l'acqua ok recuperiamo la crafting table ok e risistemiamo qui il pertugio così 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 e così siamo abbastanza chiusi no neanche per il cavolo così così me lo fai mettere questo no no qua già c'è ok e lo devo solamente mettercene uno così per chiudere l'acqua ok non capivo non vedevo in profondità dai che sto piccone ci sta per lasciare fra 3 2 1 a un tocco primo un tocco primo dai dai continuiamo a scavare continuiamo a scavare allora l'acqua l'acqua l'abbiamo presa sì allora noi dovremmo riuscire ad arrivare precisi precisi dove c'è la nostra l'inizio della nostra miniera in teoria in teoria in pratica non lo so in pratica è un altro par di maniche la teoria è tutta una situazione la pratica è tutta un'altra decisamente un'altra però 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 stiamo andando ok dai è stato è stato facile siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati buono 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 ok allora capiamo un attimo capiamo un attimo allora noi arriviamo di qua questa la chiudiamo perché tanto non ci serve più decisamente non ci serve più lì potremmo mettere il cartello con l'acqua sopra e arriviamo noi qui ok perfetto sì sì mi piace quindi crafting table in mano perché giustamente io i cartelli ci li ho ma li lascio a casa come ogni persona intelligente facciamo un cartellino ok perfetto mettiamo il cartello qui che non ci andiamo a scrivere niente perché non ci interessa e il secchiello d'acqua sopra siamo troppo alti rispetto all'altezza no non dovremmo prendere da facciamo una cosa per sicurezza per sicurezza mettiamo il cartello qui mettiamo il cartello qui e il secchiello d'acqua lo mettiamo qui dai così siamo più vicini praticamente alla zona di arrivo decisamente sì decisamente sì ok in tutto questo noi in direzione in direzione in direzione nord giusto sì quindi direzione nord apri zio dobbiamo fare oh no 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 gravissimo 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 ci sta la lava come ci sta la lava questa non me l'aspettavo questo è stato un imprevisto un imprevisto che non mi aspettavo ma che siamo riusciti ad a sistemare in tempo ok quindi la lava sta di là sì la lava sta di là l'abbiamo chiusa no ok adesso l'abbiamo chiusa recuperiamo questo con il silk touch perché ogni pezzo di vetro è importantissimo quindi recuperiamo questo e va bene va bene direi che va bene quindi diciamo che la nostra risalita dovremmo farla da questa parte di qua tutto questo noi dobbiamo comunque risalire perché allora quindi la nostra risalita deve essere fatta in direzione sud se prima eravamo a nord dico non è molto complicata da pensare come cosa ok verso sud quindi diciamo che alle coordinate alle coordinate me le segno perché già ho sbagliato una volta signori meno 18 18 18 e meno 16 dobbiamo fare il nostro buco per la risalita ok torno su signori proviamo la nostra bellissima la nostra bellissima discesa veloce vediamo se funziona se funziona e direi che per questo video ci possiamo anche fermare qui completiamo semplicemente la spirale del di vetro il condotto di vetro lo completiamo così vediamo l'effetto finale dopo di che direi che la seconda parte la facciamo domani ok signori siamo tornati in superficie io ho trasformato tutto quanto il vetro che avevamo in vetro rosso quindi saliamo tutto quanto spero che con adesso 31 blocchio riesca ad arrivare in superficie ovviamente 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 sì ce l'abbiamo fatta ok ci siamo ci siamo sì va bene sì ci sta se no potremmo fare il giro sopra di legno e alzare tutto di un blocco ed evitare quella scaretta di qua ed evitare no no va bene lasciamolo così lasciamolo così lasciamolo così facciamo una cosa però mettiamo una torcia perché così illuminiamo un attimino e va bene va bene sì io direi di sì io direi che va bene io direi che va bene vediamo se funziona se funziona signori per questo video direi che ci possiamo anche salutare ci proviamo 1 2 3 ce l'ho quale sì atterraggio morbido signori quindi non dovrei farmi eccessivamente male ok ok è andata bene è andata bene ha funzionato ha funzionato questa cosa mi è piaciuta tantissimo mi è piaciuta tantissimo detto questo signori io per questo video vi saluto qui domani allargheremo il buco da quel lato cercheremo di rendere più carina questa zona e questa zona e sì perché poi dovremmo comunque veramente iniziare a cercare diamanti in qualche altro video in qualche altro video sarà specifico per la ricerca di diamanti detto questo vi ringrazio vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao